Buongiorno da FTO Online, momento delicato per la borsa, abbiamo infatti questa mattina i principali indici europei che dopo aver tentato il superamento dei massimi di inizio mese sono tornati sui propri passi e sono ritornati al di sotto delle resistenze, vediamo qui il Futsi Mib Entraday che ha cercato questa mattina una rottura di area 20.000 per poi riportarsi nuovamente al di sotto, in questo momento siamo vicini ai 19.900 punti, è presto ovviamente per dire come finirà la giornata, certo che questo tentativo di rottura di questa importante resistenza se non dovesse essere seguito da una chiusura di seduta oltre 20.000 punti, avrebbe tanto il sapore di una bull trap, quindi di un falso segnale di rialzo che potrebbe poi essere seguito come di solito succede in questi casi da una accelerazione ribassista, del resto vediamo che le quotazioni avevano violato settimana scorsa la base di questo canale crescente, dopo una lotta abbastanza serrata due giorni fa avevano cercato ieri di riportarsi nuovamente al di sopra, ma adesso siamo tornati esattamente sulla base del canale che in questo momento passa intorno ai 19.900 punti, quindi sotto 19.900 ci serve iniziare veramente a temere almeno la ricopertura di questi due gap a rialzo che l'indice si è lasciato alle spalle. La situazione non migliora se guardiamo il DAX, questo è sempre un intraday ma di più ampio respiro, questi sono i massimi dello scorso settembre, vedete col rimbalzo visto dai minimi di fine dicembre, l'indice ha corretto esattamente il 50%, questi sono i massimi di febbraio, ha corretto esattamente il 50% della precedente fase calante, quindi si è mantenuto nell'ambito di quello che tipicamente è un rimbalzo correttivo, quindi non ha interrotto la precedente tendenza ribassista, dopo la discesa che c'era stata nelle ultime sedute, ieri c'era stato un rimbalzo, ma vedete qui abbiamo ridotto l'orizzonte temporale, stiamo guardando solo le ultime sedute, questo è l'inizio del mese di febbraio, questo è il ribasso che c'è stato dal 5 febbraio all'8 febbraio, la reazione ci ha portato questa mattina a toccare esattamente il 78,6% di retracement della precedente fase calante, quindi questi erano i massimi del 5 febbraio, sono sul nostro 50% di retracement che abbiamo visto nel grafico precedente, è quella la resistenza da battere per cercare di dare un seguito al rialzo che abbiamo visto nell'ultimo mese circa, ma già anche il massimo di questa mattina è un primo ostacolo che ha contenuto in maniera molto efficace il tentativo di rimbalzo. Il motivo per cui nonostante i dati macro che andremo a guardare tra poco, la borsa questa mattina aveva cercato di fare nuovi massimi e questo abbiamo un Euro-Dollaro che continua a scendere, quindi dollaro forte su Euro, direi che in questa fase più che forza di dollaro è debolezza di Euro, proprio a seguito degli ultimi dati macro che sono usciti, vedete qui abbiamo di questa mattina il PIL tedesco che nel quarto trimestre 2018 ha avuto una crescita pari allo 0% dal terzo trimestre, era atteso un più 0,1 e anno su anno la crescita è 0,06, ci ricordiamo che nel trimestre precedente invece era stata dell'1,1%, la stima per questo trimestre anno su anno era dello 0,7, quindi deludente la crescita tedesca, ormai lo sapevamo, del resto anche a livello ufficiale il governo ha quasi dimezzato le stime di crescita per il 2019, ieri era uscito poi il dato sulla produzione industriale dell'Eurozona, crollata del 4,2% su base annua a fronte di un consenso di un calo del 3,2%, su base mensile la produzione industriale ha registrato una flessione dello 0,9 inferiore alle attese che erano fissate per un decremento dello 0,4, quindi le attese erano meno della metà di quello che è stato poi effettivamente il dato, ripeto a fronte dei dati di questo tipo uno si aspetterebbe di vedere la borsa decisamente a ribasso, il tentativo di rimbalzo questa mattina è dovuto solo al fatto che con questi dati il dollaro si rafforza e ovviamente sappiamo che un dollaro forte sull'Euro è sostanzialmente un fattore positivo per quello che riguarda le borse dal momento che favorisce quelle aziende esportatrici di quegli stati come l'Italia e la Germania che ricavano molti dei loro profitti con il commercio estero, c'è una notizia positiva che di fondo i mercati stanno valutando un modo di sostegno alle quotazioni, ovvero la Casa Bianca, l'avevamo detto anche ieri, Trump sta cercando di addolcire la pillola cinese, ha detto che non sarà intransigente sulla prospettiva di innalzare nuovi dazi e tariffe crescenti sulle merci cinesi in importazione negli Stati Uniti, la scadenza di questa tregua che era stata segnata a dicembre è effettivamente il 2 di marzo, ma dopo il 2 di marzo potrebbe essere che la situazione rimane ancora in stand buy in attesa che il negoziato venga perfezionato, Trump sa bene che i cinesi sono in difficoltà con la loro economia più sicuramente di quello che sono gli Stati Uniti, quindi in questo momento usa un po' sia il bastone che la carota per comportare i cinesi alla firma di un trattato a lui favorevole, vedremo se ci riuscirà, in ogni caso le borse in questo momento hanno un pensiero in meno da, diciamo, col quale fronteggiarsi perché se si allontana la scadenza dell'inalzamento delle tariffe ovviamente vuol dire che le tensioni di questa guerra commerciale non sono in questo momento incandescenti, il che non vuol dire che non potrebbero essere in futuro, ma al momento siamo con una preoccupazione in meno, già c'è l'economia che rallenta, che preme sui nostri mercati, questo è il grafico dell'Eurodollaro a livello giornaliero, vedete come il cambio nelle ultime sedute si è sceso al di sotto di questa linea di supporto, il trend negli ultimi mesi è stato sostanzialmente laterale, ma nelle ultime sedute invece abbiamo avuto un'accelerazione ribassista che ci ha portato al di sotto della base di questo canale, ora se questo canale si dovesse dimostrare un flag, ossia una figura di continuazione della precedente tendenza ribassista, ci sarebbe il rischio di vedere il cambio scendere anche almeno di sotto di area 1,10 perché vedete la tendenza precedente è questa che è partita dal massimo del febbraio dello scorso anno, questa fase contenuta all'interno del canale potrebbe essere un flag e al completamento del flag ci potremmo aspettare una ulteriore fase calante, quindi come dicevamo ulteriore ossigeno per quello che riguarda le borse, perché ovviamente se il dollaro dovesse scendere sotto 1,11 e 50, 1,12 secondo me il mercato europeo potrebbe trarre un vantaggio. Guardiamo rapidamente anche il grafico del crude oil, ovviamente con il dollaro il rafforzamento del petrolio fa fatica a salire, del resto poi ci sono anche queste notizie di rallentamento dell'economia che di certo non aiutano a contrastarle, c'è la notizia che l'Arabia Saudita in ogni caso membri OPEC ma anche e soprattutto l'Arabia Saudita cercherà di ridurre ulteriormente la produzione a partire dalle prossime settimane, io per il momento in questa situazione ci vedo un potenziale testa spalle ribassista, è vero che la seconda spalla è ancora da formare, però vedete quella che potrebbe essere la testa, ossia i massimi dell'1 e del 4 di febbraio che hanno formato questo tweezer top sono esattamente a contatto con il 38,2% retracement della precedente discesa, quindi io rimbalzo dai minimi di dicembre, del resto come è successo per le borse, per il momento ha connotati correttivi e non di inversione, per parlare di una vera e propria inversione bisognerebbe vedere i prezzi a di sopra dei 60 dollari e già la rottura di area 55,50 mi sembra un'impresa non da poco, se invece vedessimo i prezzi sotto area 51,51 e mezzo vorrebbe dire che questo testa spalle è stato completato e allora potremmo aspettarci una nuova fase calante di almeno 4-5 dollari. Rapido sguardo infine anche al nostro Fuzzimib che si è un po' incartato nelle ultime sedute dopo il bel rialzo che c'era stato dai minimi di inizio anno, vedete anche in questo caso siamo arrivati in prossimità del 50% del ribasso dai massimi della scorsa estate, una resistenza che per il momento l'indice non sembra in grado di superare, questa mattina i prezzi sono arrivati con un massimo molto vicino a 20.100 punti, il 50% si colloca esattamente a 20.090, quindi proprio dove i prezzi sono arrivati questa mattina prima di tornare indietro. Questo non vuol dire che il 50% di retracement necessariamente non verrà superato, certo è che fino a che saremo di sotto di area 20.100 ci sarà da avere paura, questo è già di per sé una risposta alla domanda che mi faceva Rob, cioè 20.000 punti hanno stoppato il rialzo? Evidentemente sì, ma al di là del fatto che lo hanno stoppato è da considerare che questa è un'area veramente molto importante. Di positivo c'era stata la rottura di questa linea di tendenza, anche il superamento di alcune medie mobili significative, la media mobile ha 100 giorni esponenziale, quindi diciamo quella che descrive la situazione del trend di medio periodo, Dario Bassista si è messa laterale nelle ultime sedute, ma come vedete è in questo momento orizzontale, quindi in una situazione di neutralità e non ha ancora invertito il suo gradiente di crescita che è appunto orizzontale, solo se dovesse iniziare e virare verso l'alto vorrebbe dire che effettivamente ci sono buone prospettive per superare anche 20.000, 20.500. Guardiamo quei pochi titoli diciamo del Fruzzimib che questa mattina stanno dando soddisfazione, iniziamo con Campari che graficamente è molto interessante, l'abbiamo analizzato anche nella nostra pagina Facebook ieri sera, vi ricordo sempre che sulla pagina Facebook di FT Online trovate una serie di analisi quotidianamente con spunti grafici secondo me molto interessanti, vedete di Campari avevamo parlato appunto anche ieri sera, andiamo a vedere se riesco a recuperare rapidamente il grafico, eccolo qua, praticamente la situazione è quella che vi stavo descrivendo adesso, si sta disegnando una sorta di wedge, quindi questa figura a forma di cuneo con i prezzi che vedete stanno oscillando sempre con dell'oscillazione sempre più brevi all'interno di questo imbuto, ovviamente se dovessimo avere una rottura decisa dalla parte alta dell'imbuto avremmo un segnale positivo da confermare in ogni caso in chiusura di seduta, visto quello che è stato il comportamento in ultimi giorni, quindi una chiusura di sopra di 8,09, 8,10, questa mattina siamo di sopra i colivelli, sarebbe un bel segnale perché il titolo come sappiamo è su nuovi massimi storici, vedete il precedente picco era quello dell'agosto dello scorso anno, è stato superato, non c'è stata l'accelerazione che ci si poteva aspettare, la rottura di un record di questa importanza, ma magari l'accelerazione potrebbe esserci a partire da oggi se i prezzi sapranno confermarsi in chiusura sopra 8,10, in quel caso cosa potremmo vedere? Almeno il test secondo me di questa linea che passa intorno a area 8,80, 8,85, attenzione invece che la mancata conferma in chiusura di seduta oltre alla resistenza che vi ho indicato e la violazione di questa linea di supporto, quindi discese sotto 7,80 cambierebbero drasticamente il quadro facendo prevedere un movimento verso gli 6,70, quindi potrebbe partire una correzione anche estesa. Passiamo adesso a Prismian, altro titolo che questa mattina si sta comportando bene, su Prismian c'è una evidente resistenza orizzontale poco oltre i 19 Euro, vedete i prezzi hanno toccato già ad alcune sedute questo massimo che era il picco del 16 ottobre a 19,15, hanno provato a più riprese il superamento di questa quota, questa mattina stanno cercando di avvicinarsene nuovamente, vedremo se ci sarà la rottura di quei livelli, in quel caso ci sarebbe un bel segnale di forza perché già i prezzi stanno lavorando da alcune settimane questa linea di tendenza, quindi oltre alle 19, 19,10 potremmo iniziare a sperare in un movimento di più ampio respiro, la media mobile a 160 sedute già al di sotto dei prezzi, in questo momento orizzontale anche in questo caso come abbiamo detto per i Futsimib, se dovesse iniziare a voltarsi verso l'alto potremmo iniziare a sperare in un movimento di rimbalzo un pochino più consistente. Veniamo infine a Saipem, condizionata ovviamente anche dall'andamento del prezzo del greggio, abbiamo visto che il petrolio è su una resistenza importante, nel caso di Saipem siamo tra il 38,2 e il 50% di retracement, fino a che saremo sotto di area 4,20, 4,30 ci sarà da aver paura di una flessione, come abbiamo visto prima questa figura potrebbe essere un testa a spalle in formazione, già una chiusura seduta di sopra di 4,10, 4,15 negherebbe il rischio di questa figura ribassista e prospetterebbe il test di area 4,30, attenzione però perché se invece i prezzi dovessero scendere al di sotto di area 3,87 avremmo un segnale di inversione che potrebbe accompagnare le quotazioni almeno verso 3,40, 3,45. Vediamo se ci sono domande da parte vostra, cosa ne dice del petrolio? Penso di aver risposto già in maniera esaustiva, quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre vi invito a commentare i nostri video suggerendoci quelli che possono essere i temi di vostro interesse, cerchiamo di rispondere alle vostre domande, vi ricordo sempre che trovate sul nostro megatrader all'indirizzo megatrader.it segnali e analisi per più di 1300 strumenti finanziari. Vi do appuntamento quindi a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie a tutti.